Buonasera onorevole, si presenti? Buonasera, sono Daniele Decimo Meritio, consigliere del Decimo Municipio e faccio parte del gruppo del BDX. Cosa ne pensa riguardo alle imprese che pagano tangenti per riuscire a lavorare nella pubblica amministrazione? Purtroppo questo è un cancro della nostra società. Considere solamente che con gli ultimi sequestri che siamo riusciti ad effettuare abbiamo inaugurato un nuovo centro bocciofilo per tutti gli anziani del Decimo Municipio. Per questo dobbiamo rendere grazie alle tangenti, soprattutto dobbiamo ringraziare chi paga le tangenti. Cosa vuoi dici in merito agli scandali che la stampa le sta attribuando in questi giorni? La stampa può dire quello che vuole, la stampa va rispettata e va presa per quello che è. E onorevole, sono uscite delle foto che la ritraggono mentre esce dal sauna club di Lugano. Da quando un onorevole non può rilassarsi andando a fare una sauna? Sì, ma sappiamo tutti che quelle sono case di divertimento per adulti, mi scusi. Questo lo pensa lei, la malizia è la sua. Onorevole, ma lei si ritiene una persona fedele alla sua famiglia? Ma lei chi è, mi scusi? Sono una giornalista, faccio il mio lavoro. A parte che ritengo queste domande troppo personali, e poi non scarsiamo, c'è la capitale che ci ascolta. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Perché disi? Perché sono grandi? Bravo, bravo, bravo. Basta. 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 Sono nipi alla regata. Sono nipi alla regata. Grazie a tutti.